Parlando un po' tra le due società ci siamo resi conto che oltre alla pallaccanestro c'è ancora una partita più importante da vincere e dato che verso questa città entrambe le società sono onorate di essere parte dei grandi di questa città ci siamo sentiti da un lato obbligati e da un lato onorati di poter strappare un sorriso a chi in questo momento già in un clima così difficile si trova a vivere comunque una degenza presso l'ospedale e quindi per i più piccoli abbiamo pensato a dei regali, un semplice pallone o un album di figurine per appunto poter alleviare questa degenza Avellino e la pallaccanestro però campioni della solidarietà e speriamo, speriamo di aver fatto qualcosa di buono Per quanto riguarda il basket giocato se ne parla ormai di ritornare sul parquet nel 2021 la Scandone ha finito a Rieti il 2020, Basket Club invece che dovrà aspettare i nuovi di PCM però in campo il 2021 ma fuori al campo le due società hanno già vinto Sì, io credo che abbiamo fatto poco, molto poco però insomma basta il gesto in queste situazioni Per la pallaccanestro sì, noi come Basket Club Irpinia siamo fermi siamo in attesa insomma dei nuovi decreti, nuove indicazioni da parte della federazione ma io credo che a livello dilettantistico dalla serie C alla promozione credo che in questo momento sia di secondo piano parlare di pallaccanestro c'è qualcosa di ben altro di cui parlare Insomma, il problema reale si presenta sulle giovanili perché c'è un'annata, l'ultima che perderà un anno di giovanili c'è la prima annata che insomma non ha proprio preso parte alle attività come diceva un professore di educazione fisica ogni step nelle giovanili, se perdi uno step poi sarà difficile recuperare